Una vicenda sempre più delicata, soprattutto dopo la decisione del magistrato di Collam, che vedrà Massimiliano Latorre e Salvatore Girone in carcere per almeno altre due settimane. Sono già due intanto i mesi vissuti in cella, seppure in una sezione distaccata del carcere di Trivandum, per i due fucilieri italiani. Oggi per Massimiliano e Salvatore sono già 60 giorni di carcere in India, ma in loro la speranza non è mai venuta meno a parlare Cristian D'Addario, 34 anni, nipote di Massimiliano Latorre, il fuciliere Tarantino. A breve le famiglie Girone e Latorre partiranno per l'India per riabbracciare i loro cari e verificarne le condizioni. La loro permanenza nel Kerala durerà circa 10 giorni. In preparazione per il 12 maggio a Roma, intanto, una fiaccolata di solidarietà nei confronti dei Marò accusati dell'omicidio di due pescatori indiani. La fiaccolata, organizzata dalle famiglie, si terrà in piazza Santissimi Apostoli dalle 19 alle 21. Hanno chiesto di partecipare all'evento per portare la loro solidarietà a numerose personalità politiche. Proseguono intanto le indagini della Polizia indiana. Prima di decidere per un eventuale rinvio a giudizio, gli investigatori, guidati dal commissario di Cochi, Ait Kumar, sono in possesso anche degli esiti della perizia sulle armi dei Marò, consegnata circa 10 giorni fa, ma alcuni aspetti sono ancora in fase di chiarimento.